Alpinestart, Carpatec 1Z, tomaia leggera di nuova progettazione in pelle scamosciata, nuova punta ampliata per maggiore comfort, foderata in Nomex ignifugo, nuova doppia suola in gomma compound per consentire la massima sensibilità, la migliore calzata e durevolezza, suola resistente all'olio e al calore, chiusura con lacci e cinghia in velcro per una calzata precisa e sicura, omologata FIA 88 56 2000. Alpinestart, Carpatec, Carpatec Alpinestart, Carpatec